ciao penso che voi abbiate visto la foto di ieri in ogni caso questo è il fungo più grande della colonia è un finto chiodino credo del genere ifoloma è un fungo velenoso quindi mi sconsiglio di mangiarlo e è anche ammuffito quindi questo esemplare è completamente da buttare in ogni caso è molto interessante poiché dopo la pioggia non mi aspettavo certo di trovare questo tipo di fungo ma penso che sia tornato a crescere anche perché le temperature si sono molto abbassate rispetto ad agosto non ha piovuto e faceva molto caldo questo è anche per farvi vedere che dopo la pioggia si trova sempre roba molto interessante anche in città